Buonasera a tutti gli spettatori di Videonola da Gian Domenico qui a coadiuvarmi al commento tecnico Giorgio Lisio un saluto a tutti i presenti Super Jack Cup 2014 il primo atto l'atto iniziale di questa nuova stagione del trofeo Jack fra le due formazioni più blasonate della scorsa stagione coordinate dal signor Tufano Vincenzo dell'ASD campionato dell'avvocato coadiuato a sua volta da Fiorenzo De Vivo e mentre le squadre al centro campo si stanno scambiando i convenevoli di inizio partita direi che sia il caso di analizzare le due formazioni e le due rose che stasera si daranno battaglia al Maracanà al centro sportivo Maracanà. Giorgio cosa ne pensi delle due squadre in campo stasera? Sono sicuramente due ottimi compagini sicuramente ci sarà un grande spettacolo. Andiamo a vedere nel dettaglio come sono composte le rose. Partiamo dal Borussia Dortmund che vede figurare col numero dieci il proprio capitano in sostituzione di Michele Prisco attualmente infortunato Peccirella Domenico col numero nove Esposito Giuseppe col numero sette Coppola Giovanni numero sei per Gonippo Vincenzo mentre invece giocherà con il numero due Felice Foglia numero otto per Luigi Fornaro numero quattro per Tortora Felice portiere numero uno per Vecchierelli Alberto e Caccavale Carmine col numero tre presidente mister della società Spina Francesco formazione rosa dell'Inter composta da col numero uno il portiere Antonio D'Ambra numero due per Ambrosino Nunzio numero cinque per Nappi Felice numero quattro per il capitano Vincenzo Napolitano Guido Sepe col numero dieci Lazzaro De Sena col numero sette Umberto Nappi col numero undici e Vincenzo Lombardi con il numero otto mister Umberto Sepe in panchina per l'Inter Giorgio secondo te chi potrebbe essere il valore in più per ogni o per ogni per ognuna delle squadre in campo il Borussia Dortmund chi potrebbe ma guarda il Borussia Dortmund si presenta con giocatori d'alto profilo difficile forse scegliere un migliore tra il Borussia Dortmund però mi sbilancio e dico foglia invece per quanto riguarda l'Inter è una squadra giovane che ha molto da dimostrare però se devo sbilanciarmi sbilancio sulla Micolazzaro ottimo tra qualche seconda inizieremo col calcio giocato ci sono giusto le ultime raccomandazioni da parte del signor da parte del signor Tufano Vincenzo ultimi convenevoli diritto a centrocampo con la scelta da parte dei due capitani della porta o dell'incarico del calcio d'inizio e cerchiamo di decifrare i cinque titolari di ogni squadra l'Inter presenta fra i pali Antonio D'Ambra formazione composta dal capitano Vincenzo Napolitano che parte titolare il numero 7 Lazzaro De Sena Felice Nappi e Umberto Nappi a completare il cinque Gian Domenico scusa se ti interrompo ma già c'è un colpo di scena perché Lazzaro De Sena si accomoda in panchina quindi c'è subito questo cambio prima ancora del fischio d'inizio invece il Borussia Dortmund ha ancora le carte abbastanza mischiate forse riusciremo a decifrare la formazione titolare vediamo il capitano Pecerella Domenico parte titolare Felice Foglia col numero due e vediamo fischio d'inizio manovra l'Inter con un palleggio difensivo attenzione fasi di studio Giorgio quanto è importante evitare di sbilanciarsi in una fase iniziale di gioco ma data l'importanza della partita penso sia fondamentale poi è da vedere le due strategie le strategie delle due squadre stiamo a vedere intanto l'Inter ha subito diciamo provato a concretizzare il primo possesso e fasi di studio con Antonio D'Ambra che para molto bene un tiro dalla distanza il Borussia Dortmund adesso è in proiezione offensiva rapido palleggio sulla fascia sinistra si passa per il centrocampo tiro e rimessa laterale sì sono le prime fasi di studio quindi tiri da lontano azioni non ancora ben definite le due squadre sono molto molto contratte ruba un pallone importante l'Inter probabilità di 3 contro 2 arriva il goal primo goal per l'Inter nella Super Jack Cup firmato da Luigi For scusate firmato da Vincenzo Lombardi 1 a 0 per l'Inter e subito batte il Borussia Dortmund cosa ci puoi dire sull'azione che ha portato al vantaggio al vantaggio nero azzurro Giorgio? ma guarda c'è stato un break di Lombardi un po' devo dire anche contrastato però attenzione qui attenzione riparte in contropiede l'Inter e ottima parata del portiere del Borussia Dortmund che riesce a murare il tiro di Umberto Nappi a 2 per 2 a pochi metri dal goal prego Giorgio bravo qui vecchiarelli da dire comunque dicevo riguardo l'azione del vantaggio un po' incontrastato un tiro niente male forse il potere si è fatto tradire un po' dall'emozione un po' dal freddo direi attenzione intanto punizione per il Borussia Dortmund che si proietta subito in attacco alla ricerca del pareggio Foglia sul attenzione Foglia qui vedremo è uno schema parato para para senza tante difficoltà D'Ambra uno schema che diciamo non ha fruttato bene ma guarda siamo ancora gli inizi giando i ragazzi in capo dovevano un po' prendere il ritmo intanto amministra in difesa il Borussia Dortmund cercando di proiettarsi in attacco sempre Foglia da cui passano quasi tutte le palle più importanti Caccavale non va rimessa laterale per i gialloneri Pecerelli intanto è leader in campo guida i suoi giocatori quindi oltre ad essere capitano è un vero e proprio leader e motivatore credo sia la giusta diciamo la giusta sostituzione al capitano infortunato Prisco attenzione intanto tiro da fuori e calcio d'angolo tiro da fuori ad opera del del capitano dell'Inter ad opera di Vincenzo Napolitano calcio d'angolo che non non porta frutti e il Borussia Dortmund parte in contropiede Pecerella ci prova ma il tiro attenzione Foglia ci riprova ma non non riescono a segnare c'è una buona chiusura difensiva da parte dell'Inter Giorgio Guarda l'Inter in fase difensiva sembra tenere molto bene vediamo se per tutta la partita avrà questa questa intensità Attenzione il capitano dell'Inter parte in contropiede tiro è ottima risposta ottima risposta del portiere del Borussia Dortmund c'è da dire che l'Inter sta effettuando un gioco molto di attesa e ripartenza Guarda non è spesso e volentieri una tattica un po' non amata dagli amanti del bel calcio però è sicuramente fruttuosa E infatti adesso con l'Inter in vantaggio diciamo che il Borussia Dortmund è costretto nel bene o nel male a dover fare la partita quindi situazione congeniale all'Inter dei primi minuti Sì dovranno attaccare sicuramente l'Inter potrà approfittare di veloci ripartenze Intanto calcio d'angolo sempre per l'Inter a seguito di un tiro dalla distanza di Umberto Nappi lo stesso Umberto Nappi a calciare rimessa laterale l'Inter manovra sulla fascia sulla propria fascia sinistra ed è il Borussia Dortmund che può ripartire fallo fallo tattico a centrocampo che stoppa una probabile proiezione offensiva del Borussia Dortmund piccerella sul pallone foglia ottimo filtrante il palo arriva il il palo del Borussia Dortmund che sull'ottimo filtrante di di foglia e caccavale a centrare il palo alla destra di D'Ambra palla al piede il capitano dell'Inter rapido palleggio sulla sulla fascia attenzione prova prova a superarne un paio prova a superarne un paio Vincenzo Lombardi ma non riesce fallo non si capiscono sulla sulla fascia i giocatori del Borussia Dortmund la rimessa laterale sfuma Inter in possesso di palla con Nappi che apre sulla destra di nuovo il capitano Nappi Nappi porta palla attende in movimento si prova un rapido scambio che non viene concretizzato anche grazie all'interferenza di Pecerella che allontana in rimessa laterale sempre il numero 11 e ottima occasione per l'Inter che tuttavia non concretizza Vincenzo Lombardi ha provato il tiro da fuori poteva già a mio avviso poteva sfruttare meglio Lombardi che sembra il migliore dei suoi beh bisogna dire che è la partita abbastanza contratta e attenzione Borussia Dortmund in proiezione offensiva con Foglia e arriva la rete del Borussia pareggio uno ad uno e arriva il gol ad opera di Tortora Felice che segna per il Borussia Dortmund per i gialloneri che ristabiliscono la parità è da dire Giando che il tandem Foglia-Tortora è ben oliato già da tempo e infatti ha prodotto un'azione offensiva sì di contropiede ma Foglia ha dato un ottimo assist sì guarda il Borussia ha approfittato della prima sbavatura difensiva dell'Inter e senza pietà non le ha perdonate un fortino che ha lasciato ha evidenziato la sua prima crepa intanto riparte il palleggio dell'Inter palleggio sostenuto ma attenzione il break di Pecerella che prova a proiettarsi offensivamente al centro del campo ma non si concretizza e tornano i nerazzurri in possesso palla che si affacciano alla metà campo avversaria con Nappi filtrante alto che tuttavia trova ben disposta la difesa giallonera che adesso può approfittare di una rimessa laterale a seguito di un tiraccio terminato a lato troppa fretta troppa fretta per Nappi che poteva alzare la testa per servire un compagno ottima percussione offensiva percussione offensiva che non si concretizza totalmente da parte dei gialloneri del Borussia Dortmund attenzione Foglia torna in avanti tiro alto su questo pallone D'Ambra su questo pallone D'Ambra comunque è riuscito a coprire bene lo specchio attenzione errore errore in fase di errore in fase di impostazione stava per approfittarne Borussia Dortmund con Tortora con Tortora che si è trovata tu per tu con D'Ambra D'Ambra è stato attento ed è stato costretto al fallo dall'attaccante del Borussia Dortmund l'Inter non deve concedersi questi errori perché rischia di avere un'imbarcata Pecerella e Foglia sulla punizione al limite dell'aria quasi rigore è un calcio a due molto importante ed arriva la segnatura da parte del Borussia Dortmund che passa in vantaggio con Tortora Felice che firma la sua doppietta personale e porta in vantaggio i suoi contro i nerazzurri intanto l'Inter prova a fare la partita adesso paradossalmente sono due squadre molto ordinate molto chiuse dietro che ogni qualvolta si trovano in vantaggio cercano poi di amministrare adesso l'Inter è costretta ad esempio a fare la partita e a proiettarsi maggiormente in attacco e il Borussia Dortmund potrebbe approfittarne un'altra volta con l'ennesimo contropiede ma non si riesce a concretizzare Giorgio che ne pensi di questo assetto a specchio da parte di entrambe le squadre guarda nel calcio a 5 gli schemi più o meno sono sempre i soliti conta anche un po' l'individualità del singolo quel colpo che ti fa saltare l'avversario ti lancia in porta credo che adesso il Borussia giocherà la palla così per amministrare e l'Inter toccherà aggredire l'avversario intanto a seguito della conclusione errata di Nappi si è sviluppato un palleggio difensivo del Dortmund che adesso torna in attacco ma il signor Tufano dell'ASD campionato dell'avvocato decreta il cambio battuta a seguito di un errato calcio laterale sono errori questi che potrebbero essere tranquillamente evitati e sono errori che nel trofeo Jack spesso hanno fatto la differenza ricordiamo anche nelle annate precedenti ci sono state diverse situazioni da fallo laterale contestate bisogna stare sempre attenti intanto Nappi prova l'ennesimo tiro da fuori ma c'è poca precisione in queste conclusioni quasi da centrocampo l'Inter si sta limitando alle conclusioni da fuori ma dovrebbe cercare la porta più da vicino conclusioni da fuori che fruttano per lo più calci d'angolo ma anche questo è un calcio d'angolo sfruttato non bene l'Inter dovrebbe sfruttare di più queste occasioni perché di fronte hanno una squadra molto competitiva come il Borussia Vincenzo Vincenzo Lombardi non è stato molto preciso attenzione addirittura passa in doppio vantaggio il Borussia Dortmund con Foglia che apparecchia apparecchia per Tortora Felice che firma la sua tripletta personale ancora loro direi e direi che dopo tre gol lo schema ormai è ben definito Foglia in profondità per Tortora e si segna ti ripeto loro si conoscono bene hanno giocato molto insieme non possono che nascere belle azioni attenzione di nuovo Foglia con la palla al piede prova ad involarsi in attacco cerca un difensore verso cui scaricare la propria palla Pecerella prova a scaldare il tiro si ritorna al palleggio in linea mediana con Foglia che prova il tiro ma trova pronto l'estremo difensore nerazzurro calcio d'angolo per il Dortmund situazione che non si concretizza si sviluppa un altro calcio d'angolo su cui su cui la difesa è molto attenta ruba palla e punizione per il per il collettivo nerazzurro ancora il capitano a manovrare a ridosso dell'estremo difensore d'ambra tenta l'imbeccata Nappi ci ripensa palla sull'esterno calcio d'angolo calcio d'angolo da apprezzare lo sforzo dell'Inter però ripetiamo che questi calcio d'angolo devono essere sfruttati meglio attenzione a contropele qui totalmente scoperta difesa totalmente scoperta quella nerazzurra Bonippo ci ha andato vicino ottima azione personale fortunato qui ottima azione personale purtroppo la porta di calcio a 5 necessita di tantissima precisione per essere inquadrata e lo scavino non è andato non è andato a buon fine ritorna a manovrare l'Inter sulla linea mediana ma non si riescono a trovare delle soluzioni efficaci ed il palleggio risulta sterile per poi concludersi con tiri del genere Giorgio che ne pensi? Guarda l'Inter ho notato che ha cambiato un po' è entrato Lazzaro che credo possa dare una scossa all'Inter necessita l'Inter di una scossa in questo momento De Senna numero 7 che si piazza a difesa intanto Umberto Nappi prova ad involarsi fronteggiato da due uomini ma non riesce non riesce a concludere a rete e si sviluppa una rimessa laterale che che porta ad un nulla di fatto parla per il Borussia Dortmund che ritorna ad agire da dietro con Peccerella fendente lungo per Foglia di nuovo Tortora Foglia Foglia con la palla e Tortora non riesce ad inquadrare lo specchio non riesce a calare il poker in una partita che l'ha visto protagonista assoluto ritorna a manovrare l'Inter percussione offensiva che non si concretizza positivamente Giorgio non so se è notato sulla fascia Lazzaro era totalmente Lazzaro De Sena ricordiamo il numero 7 era totalmente smarcato ma non c'è non c'è stato il passaggio finale giusto ma guarda l'Inter adesso deve più che correre deve pensare a come correre a come giocare i palloni per sfruttare al meglio le occasioni che si vengono a creare rimessa laterale in proiezione offensiva per il Borussia Dortmund che torna a riaffacciarsi dalle parti di D'Ambra ed arriva il gol uno schema gol realizzato dal numero 6 Gonippo che al secondo tiro trova la segnatura ma guarda Gonippo è entrato bene in partita ci ha provato prima con quello scavino di poco sul fondo adesso ha trovato una bella rete però da dire che era veramente libero troppo solo marcature un po' blande qui 4 ad 1 per il Borussia Dortmund adesso per l'Inter si fa veramente dura che a ridosso della metà del primo tempo si ritrova sotto di 3 marcature dopo essere stata anche in vantaggio rimessa laterale sempre per i nerazzurri il tiro che che non si concretizza e riparte il Borussia Dortmund e riparte da dietro Giorgio ha notato che anche il Borussia ha cambiato un paio di giocatori in campo fra i quali anche Gonippo che è entrato e ha segnato quanto è importante riuscire ad attingere bene anche dalla panchina ma guarda se sei in possesso di una rosa competitiva non c'è differenza tra i 5 iniziali e i restanti in panchina se c'è qualità alla fine c'è qualità sempre ci saranno sempre buone azioni è sicuramente fondamentale prima Foglia ha provato a girarsi e a concludere a rete conclusione alta l'Inter a centrocampo cerca di marchi ingegnare qualche buona azione offensiva ma il il quadro il diciamo il canovaccio è sempre lo stesso c'è sempre grande problema a creare delle azioni offensive efficaci e recupera il pallone di Borussia Dortmund che sta esprimendo un calcio molto più brioso e riesce anche a concludere spesso a rete cosa ne pensi Giorgio è evidente che il Borussia in campo ha più qualità mentre arriva ancora la rete è ancora lui ancora Tortora che segna la sua terza o quarta rete quarta rete per lui veramente un mattatore 5-1 per il Borussia Dortmund che sta veramente esprimendo un ottimo gioco la squadra di Francesco Spina intanto time out piccola pausa per le ostilità di questa Super Jack Super Jack Cup 2014 60 secondi di pausa durante i quali magari si riuscirà anche ad ingegnare qualcosa l'Inter per cercare di recuperare lo svantaggio che ne pensi Giorgio? guarda l'Inter deve mantenere la calma innanzitutto sangue freddo e non disperarsi del punteggio c'è ancora tempo la qualità dell'Inter c'è quindi non vedo perché la partita debba finire qui ad esempio si ritorna scoprattutto 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 un tiro senza troppe pretese che finisce in un fallo di fondo intanto altri cambi per l'Inter che ha totalmente rivoluzionato il reparto difensivo è noto la presenza di Nunzio Ambrosino difensore granitico roccioso sicuramente potrà rimediare alle falle difensive viste in precedenza e infatti Ambrosino si riesce a disimpegnare abbastanza bene in una situazione complicata Lazzaro De Sena commette fallo quinto fallo quindi da questo momento in poi non ci sarà più bonus e saranno tutti i tiri liberi ricordiamo che nel trofeo Jack e nel calcio a 5 quando si commette dal quinto fallo in poi ci saranno i tiri liberi e non più la punizione in qualsiasi parte del campo si commette poi il fallo azione offensiva del Dortmund che non non si concretizza e D'Ambra può rimettere per per l'Inter De Sena perde un pallone importante ma Ambrosino è pronto a recuperare gli errori del proprio compagno di squadra e ad evitare situazioni ben più complicate Guarda Fornaro qui è rimasto è stato veramente sfortunato era praticamente si stava involando verso la porta da solo è scivolato sfortunato Intanto vedo dei movimenti in panchina per il per il Dortmund secondo te potrebbe avvenire qualche cambio per preservare i titolari in vista del secondo tempo o sono solamente un po' di tattiche da parte di Francesco Spina ricordiamo mister del Borussia Dortmund guarda mister Spina forse sta pensando di far giocare un po' tutti un po' di minuti per tutta la rosa dato anche il risultato però bisogna stare attenti io sono convinto che nel secondo tempo magari si potrà assistere ad un ritorno dell'Inter che proverà con tutto il fulgore possibile a recuperare lo svantaggio intanto il Borussia Dortmund continua a tessere la sua tela ogni tanto dei tiri sempre abbastanza pericolosi c'è molta precisione nei passaggi e c'è molta lucidità al momento del tiro da parte del Borussia Dortmund forse questa è la chiave del primo tempo Giorgio guardi io credo proprio di sì anche perché gli uomini del Borussia sono tutti uomini di esperienza di conseguenza c'è solo qualità intanto di nuovo il Borussia al tiro che sta trovando tanto spazio sugli esterni specialmente la fascia destra del Borussia sta funzionando a meraviglia guarda c'è una fase della partita adesso da parte dell'Inter che vuole provare a recuperare deve per forza sbilanciarsi però deve anche allo stesso tempo evitare di fare il gioco del Borussia ovvero quello di ripartire e andare a segno intanto una fase abbastanza convulsa al centro campo Coppola attenzione percussione offensiva di Fornaro attenzione al contropiede qui ed arriva un importante salvataggio da parte dell'estremo difensore interista contropiede che non si concretizza Giorgio per l'ennesima volta durante questo primo tempo guarda Lazzaro mi sembra un po' svagato i suoi appoggi ai compagni sono stati sempre imprecisi mi auguro per la partita per l'Inter per lo spettacolo che si svegli vedo in Razzurri un po' sul legame in questa fase c'è tanto spazio per il Borussia Dortmund ma attenzione che Umberto Nappi prova a gestire un pallone difficile non ci riesce c'è subito la ripartenza offensiva del Borussia che piuttosto che gettare il pallone in profondità preferisce amministrare e dire giustamente sul 5 a 1 sì assolutamente è questo il gioco del Borussia adesso deve aspettare il barco deve aspettare lo spazio o ad esempio come in questo caso da parte di Fornario il tiro da fuori attenzione però sempre ai contropiedi veloci dell'Inter che ricordiamo è sempre un po' imprecisa in questa fase a livello atletico l'Inter presenta degli ottimi giocatori ottimi contropiedisti ma c'è molta imprecisione nei passaggi ed è quello che sta veramente rendendo difficile l'approccio offensivo della squadra nero azzurra che perde per l'ennesima volta il pallone Borussia Dortmund invece offre un palleggio di altissima qualità Fornaro passa in mediana attenzione di nuovo Fornaro palla al piede prova ad involarsi e guadagna una rimessa laterale attenzione no invece il direttore di gara decreta il fallo laterale a favore dei nero azzurri Desena sulla palla Ambrosino prova ad impostare fase difensiva di nuovo Desena palla al piede non ci sono spazi il Borussia Dortmund si copre molto bene vero Giorgio? si anche in virtù del risultato basta guardare quando il Borussia Dortmund è in possesso di palla fa girare la palla vedi come in questo caso con maestria e con semplicità allo stesso tempo si un un passaggio di esterno destro molto prezioso di Giovanni Coppola che prova a far rinvolare Fornaro e intanto intanto c'è un un fischio dell'arbitro che decreta il cambio battuta attenzione l'arbitro fa bene a farsi sentire scusa se ti interrompo ma l'arbitro fa bene a farsi sentire perché l'arbitro è una figura importante in ogni partita è guai a chi non lo rispetta dovrebbe anche migliorare la comunicazione col proprio assistente intanto arriva dalla fascia sinistra l'ennesimo gol del Borussia Dortmund il sesto gol e si va sul punteggio di 6 a 1 con la segnatura di Fornaro guarda Fornaro qui è stato fortunato ricordiamolo che nelle precedenti occasioni da lui create non è riuscito ad andare a segno però questa volta si è fatto attenzione qui ottima parata parata stilisticamente perfetta intanto prima abbiamo ascoltato i tifosi che hanno apprezzato il gol di Fornaro un minuto di recupero decretato dal direttore di gara si giocherà quindi per altri 60 secondi in questa prima frazione di gioco della finale della Super Jack Cup 2014 Desena prova a dare profondità ottimo tiro e ottima risposta del portiere poco impegnato ma sempre puntuale guarda Vecchiarelli dopo diciamo la mezza papera del vantaggio del vantaggio nero azzurro si è decisamente ripreso ha dimostrato di essere uno dei migliori portieri del Giac diciamo che a freddo ha subito una segnatura ma sta difendendo con maestria la propria porta e sta guidando molto bene la linea difensiva si assolutamente fischio finale del primo tempo Borussia Dortmund 6 Inter 1 Guarda Vecchiarelli 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 Guarda Vecchiarelli